Musica Ben trovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. La regione Sicilia lancia un piano di ristoro per coprire i costi che i comuni sostengono per inviare all'estero i rifiuti dell'isola. La scelta del governo però non convince in Movimento 5 Stelle. Un'idea pessima frutto di una gestione pessima, ancora una volta sulle spalle dei siciliani. Accusa il vicepresidente dell'Ars, Nuccio Di Paola, che dichiara spedire i rifiuti all'estero è una dichiarazione di fallimento. Con 45 milioni di euro si sarebbero potute costruire decine di stazioni di compostaggio. La crisi del sistema regionale dei rifiuti non accenna a diminuire. Le discariche dell'isola sono al collasso e i problemi a far decollare la differenziata, specie nelle città metropolitane, sono più che evidenti. I comuni siciliani si trovano dunque sull'orlo di un'emergenza perenne che di fatto li ha costretti a inviare i rifiuti indifferenziati fuori regione, con costi così triplicati per gli enti. Per alleviare questi costi il governo Schifani ha così deciso di dare il via libera all'erogazione ai comuni dell'isola delle somme necessarie per la copertura dei costi straordinari sostenuti per il trasferimento di rifiuti all'estero. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano complessivamente a 45 milioni di euro, ma in questa fase saranno liquidati 20 milioni per coprire le spese relative al periodo che va dal 1 giugno del 2022 al 31 dicembre del 2022. I contributi saranno riconosciuti dalla regione ai comuni in maniera forfettaria per accorciare i tempi dovuti alla rigida logica del rimborso e saranno assegnati sulla base dei dati ufficiali desunti dalla piattaforma dell'osservatorio rifiuti sovraregionale. Nello specifico, valutato il quantitativo di indifferenziato prodotto, sarà assegnato ai comuni un extra costo pari a 120 euro a tonnellata, cui si associerà a una premialità aggiuntiva in base alla percentuale di raccolta differenziata. Nessuna premialità fino al 30%, il 10% in più dal 30% al 60%, il 20% in più dal 60% al 100%. I fondi regionali così calcolati e erogati dovranno essere utilizzati esclusivamente per migliorare i servizi afferenti alla raccolta rifiuti. La scelta del governo però non convince il Movimento 5 Stelle. Un'idea pessima frutto di una gestione pessima, ancora una volta sulle spalle dei siciliani, accusa il vicepresidente dell'ARS, Nuccio Di Paola. Continua da parte di questa destra e del presidente Schifani la gestione pessima dei rifiuti. A pagarne le spese saranno sempre i siciliani, che vedranno aumentare vertiginosamente la tassa dei rifiuti. Il presidente Schifani, con la sua giunta, ha deciso di stanziare 45 milioni di euro per mandare i rifiuti fuori dalla Sicilia. E questo perché nel corso degli anni non sono stati realizzati gli impianti, non è stata realizzata l'impiantistica piccola che dovrebbe essere stata realizzata già in passato per gestire i rifiuti all'interno del comprensorio di quel territorio. 45 milioni di euro che potevano servire per realizzare impianti di compostaggio, che potevano servire per realizzare impianti per lo smaltimento e il recupero dell'indifferenziato. Continua la propaganda di Schifani, come già fatto al presidente Musumeci, sui termovalorizzatori, sulla realizzazione di questi mega impianti, che non vedranno mai la luce. E continuiamo a spendere milioni e milioni di euro e a pagare le spese saranno sempre i siciliani. Il centro-destra va alla presidenza del Consiglio dell'Unione dei Comuni. È stato eletto il forzista Carlo Romano, vice consigliere Nisce Messe Rosario Meli. Ora l'organo dovrà dare priorità ai finanziamenti del nuovo ciclo 2021-2027. Il centro-destra, con l'evidente supporto di qualche dissidente dell'area progressista, piazza subito il proprio presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni, organo essenziale per i finanziamenti del ciclo 2021-2027. Il forzista Carlo Romano è stato eletto con cinque voti a favore, poi una scheda bianca e tre voti invece per il consigliere di Butera, Rita Pasqualetto. In aula anche il consigliere Nisce Messe di centrodestra, Rosa Cirrone Cipolla, che era invece assente alla prima riunione. Il centrodestra ha fatto proseliti e il fronte progressista civico che puntava su Pasqualetto non ha retto. Già la precedente seduta, conclusasi poi senza il numero legale, due consiglieri buteresi, Luigi Casisi del PD e Angelo Di Menza, avevano lasciato l'aula non rientrando insieme agli esponenti di centrodestra. Il Consiglio dell'Unione dei Comuni ha i vertici, quindi parla soprattutto il linguaggio del centrodestra. Dopo l'elezione del presidente Carlo Romano, la vicepresidenza è andata al consigliere nisce mese, Rosario Meli. Anche in questo caso, cinque voti a favore e una scheda bianca, tre preferenze e invece al civico di una buona idea, Rosario Faraci. Con presidente e vice appena eletti, parte ufficialmente il cammino dell'organo politico dell'Unione. Il centrodestra ha voluto subito marcare il campo anche davanti al sindaco Lucio Greco. Più defilato è rimasto il primo cittadino nisce mese, Massimiliano Conti, che questa volta ha seguito fuori dall'aula, insieme al Melognano Salvatore Scerra, ma sembra già ispiratore della manovra politica. Ora la priorità dovranno essere i finanziamenti, evitando battute d'arresto e tagli. Dal 1 ottobre Impianti SRL darà il via a un nuovo sistema di raccolta rifiuti. A partire da mercoledì 4 ottobre, la Impianti SRL consegnerà alle famiglie un kit da ritirare presso l'area dedicata in via Settefarina all'ex mercato settimanale, che conterrà cinque contenitori, un pieghevole con la guida alla corretta raccolta differenziata e il calendario dei conferimenti. Per quanto riguarda la carta e il vetro, questi devono essere messi direttamente nei contenitori senza sacchetti. Tutte le altre frazioni, plastica, metalli e secco residuale, possono essere conferite in sacchi generici, purché siano trasparenti e mai neri. Al fine di rendere più semplice il conferimento e potenziare il servizio, i cittadini potranno scaricare l'app KTARIP per visionare il calendario e ottenere indicazione sulla destinazione dei rifiuti. Nulla pare essere cambiato dall'ultimo incontro tenutosi in comune tra associazioni alimaniste, rappresentanti ASPE, Dipartimento Veterinario e Amministrazione. A segnalarlo è la delegata locale dell'OIPA. I volontari, stremati dal gran numero di richieste di intervento, chiedono aiuto ai cittadini. Sentiamo. Animali morti sul ciglio della strada e continue segnalazioni di nuove cucciolate stanno rendendo la vita delle associazioni animaliste e dei loro volontari sempre più difficile. La questione del randaggismo, sia canino che felino, continua ad essere fuori controllo e allarmante con centinaia di cuccioli per strada. Dopo l'incontro del 25 agosto in comune con i rappresentanti dell'ASPE, del Dipartimento Veterinario della stessa azienda sanitaria e l'amministrazione, nulla è cambiato. La situazione è sempre più drammatica. Dopo un mese non è successo niente, sono state dette tante belle parole, sono state fatte tante belle propositi, ma ai fatti concreti non ce ne sono stati. Come al solito, questa amministrazione, questo sindaco e questa ASPE non fa onore alle promesse date, alle promesse fatte. La situazione è sempre più grave. La gente chiede aiuto, la gente si rivolge a noi, ma noi non abbiamo la forza, la possibilità di poter sostenere la città di Gela per tutte le richieste che fanno. Nell'incontro tenutosi nell'ufficio del sindaco, Luigi Farruggia, responsabile veterinario dell'ASPE, aveva promesso l'aggiunta di un veterinario per due giorni sul territorio e l'aumento della parte amministrativa che avrebbe dovuto gestire l'anagrafe dell'animale, in modo che i medici potessero occuparsi solo dell'intervento. Tutto questo per garantire un numero maggiore di sterilizzazioni. Si devono fare assolutamente le sterilizzazioni, coinvolgere l'ASPE, coinvolgere i veterinari privati con delle convenzioni, perché è una situazione insostenibile. Il comune si è bloccato e si è fissato del voler svuotare i canili e i gattili, ma non vuole capire che non può svuotare i canili e i gattili se non chiude a monte la perdita, cioè se non fa le sterilizzazioni non si possono svuotare i canili e i gattili. Il problema di base è questo, e se si vogliono muovere si muovono perché siamo in una situazione di emergenza. Ci sono cani, carcasse di cani e gatti morti per strada, che poi vengono tranquillamente asfaltati ed è una situazione insostenibile. L'appello di aiuto dei volontari questa volta è rivolto anche ai cittadini, che continuano a richiedere il loro intervento. Laddove è possibile, chiedono al singolo cittadino di farsi carico della cucciolata segnalata, fino a quando i volontari non potranno prendere gli animali in carico. Quando si trovano delle nuove cucciolate, innanzitutto controllare che non ci sia la mamma nelle vicinanze, perché è logico che la mamma si allontani per andare a mangiare e quindi può anche darsi che si sia allontanata proprio per sostenersi. Non toccare le cucciolate perché se la mamma sente che i cuccioli sono stati manipolati, sente l'odore dell'uomo, non li accetta più. Passiamo alla cronaca giudiziaria. A definitiva la condanna per l'omicidio di Paolo Costarelli ucciso in carcere a Caltagirone dal suo compagno di Cella non è stato proposto appello. La decisione del GUP del Tribunale di Caltagirone risale allo scorso marzo. Il 44enne calabrese Salvatore Moio venne condannato a 20 anni di detenzione in Cella nel carcere Calatino. Uccise il gelese Paolo Costarelli. La vittima scontava una condanna di entità assai ridotta. La sentenza è ormai definitiva. Con il passaggio ingiudicato non ci sarà infatti l'appello. Nella difesa, nella procura, hanno ritenuto sussistere elementi per chiamare in causa i giudici catanesi di secondo grado. Moio ammise l'omicidio spiegando però di aver reagito a presunte provocazioni. Costarelli venne strangolato con lacci da scarpe. Presentava ferite. Il GUP non ha riconosciuto la legittima difesa, così come l'ipotesi preterintenzionale. Ricostruzioni alternative fornite alla difesa del 44enne. I familiari della vittima si sono costituti parti civili nel procedimento, assistiti dagli avvocati Giuseppe Cascino, Vittorio Giardino e Giuseppe Smecca, che hanno insistito per la condanna. Vent'anni di detenzione era la pena massima applicabile a seguito del giudizio abbreviato concesso all'imputato difeso invece dall'avvocato Salvatore Di Gioia. Il corpo di Costarelli, ormai privo di vita, venne trovato agli agenti della penitenziaria solo due giorni dopo. Una catena di fatti che non ha mai del tutto convinto i familiari. È stato sottolineato che Costarelli non poteva avere una capacità di risposta sostenuta perché assumeva farmaci che lo rendevano fisicamente piuttosto debole. I legali di parte civile, anche a seguito del passaggio ingiudicato della sentenza, non sembrano escludere ulteriori iniziative. Il fornitore di sovrambito siciliacco ha reso noto di aver ripristinato nella serata di ieri le forniture a servizio della distribuzione alle utenze di Riasi, Mazzarino e Gela. Pertanto Caltacqua ha riavviato la distribuzione ieri dalle 19 nelle zone H24, Caposoprano Bassa, San Giacomo Basso, Fondo Iozza. Oggi 30 settembre dalle 6 nelle zone H24, Caposoprano Alto, San Giacomo Alto, Scavone Alto e Basso. Successivamente si seguirà l'ordinaria programmazione. Una proroga tecnica fino a dicembre è stata autorizzata dall'Aggiunta per la Multiservizi Ghelas. Senza contratto non c'erano altre soluzioni. Allo stesso modo è prevista una revisione del contratto e una verifica dei servizi affidati all'Ainaus. Una nuova proroga tecnica fino alla conclusione dell'anno in corso. L'Aggiunta l'ha deliberata per la Multiservizi Ghelas. Quella in atto si appresta infatti a scadere. Era inevitabile a salvaguardia i dipendenti che si procedesse in questa direzione. Il totale si aggira intorno agli 886 mila euro. Nessuna sorpresa quindi dalla riunione dell'Aggiunta che ieri mattina ha rilasciato il provvedimento. Il nodo vero rimane quello del contratto. La prossima settimana, su iniziativa del manager Pietro Inferrera, dovrebbe tenersi un primo tavolo proprio finalizzato al contratto. L'amministratore della società in ausa ha anche formalizzato la nomina di un legale esperto in rapporti con la pubblica amministrazione, sempre con il fine ultimo di un contratto pluriennale. Nella ade libera che autorizza la proroga tecnica, l'amministrazione fa un ampio approfondimento, richiamando quanto dettato alla Corte dei Conti e dai revisori. Il rapporto con la municipalizzata va valutato con attenzione. I servizi attuali, nonostante le evidenti difficoltà di organico di Ghelas, sono confermati in blocco, ma per il futuro bisognerà affrontare una rivisitazione dei servizi affidati alla Ghelas affinché il contenuto del piano di riequilibrio possa rappresentarsi in modo sostenibile negli anni. Così riporta il provvedimento di giunta. Sia i magistrati contabili sia i revisori hanno più volte indicato la necessità di una revisione complessiva dei rapporti con le partecipate. La situazione finanziaria del municipio e la corsa verso il piano di riequilibrio hanno acceso altri alert. Si tenterà di ridurre il corrispettivo del contratto e di condurre un'analisi puntuale sull'eventuale modifica legata al mantenimento o meno dei servizi ad oggi affidati secondo regime di proroga. Così precisa la delibera di giunta. Un nuovo contratto non è una strada che viene sbarrata, anzi, ma dovranno essere rispettati i parametri stringenti per una razionalizzazione della spesa. Ghelas va avanti in proroga e il futuro successivo, stretto tra la crisi finanziaria del municipio e l'esigenza di un possibile rilancio, non è ancora così ben delineato. Tutto passa dal contratto e da servizi che dovranno essere in linea con la rigida ricetta finanziaria imposta dalla crisi di bilancio del municipio. Il Gela si presta a disputare la quarta giornata di campionato contro la Ionica. Dopo le vittorie contro Paternò e Mister Bianco e la sconfitta contro la Real Siracusa la gara si giocherà allo stadio comunale di Santa Teresa di Riva. Adesso è ufficiale. Xavir Esuf è un giocatore del Gela. L'esterno classe 2002 si allena con i biancazzurri già da diverse settimane ma ha ottenuto solo negli ultimi giorni e lascia passare per giocare nel campionato di eccellenza con la squadra gelese. Il nuovo giocatore del Gela sarà a disposizione di Mister Fauciana già per la gara in trasferta di domenica contro la Ionica. È un giocatore che ha un bel potenziale ma deve dimostrare anche perché è molto giovane e non ha molte esperienze nel nostro calcio quindi vediamo un po' di integrarlo pian pianino. Il Gela è a quota 6 punti in campionato dopo le due vittorie casalinghe contro Paternò e Mister Bianco vinte rispettivamente per 2-0 e 2-1 e la sconfitta contro la Real Siracusa per vedere per 3-1. La Ionica si trova attualmente al decimo posto in classifica unica squadra del torneo ad aver totalizzato 3 punti in 3 giornate. Unica vittoria infatti di misura contro l'UP di Santa Croce nell'ultima di campionato dopo le sconfitte contro Mazzarron e Sicurale Onzio. È una gara tosta, la Ionica è veramente una squadra molto interessante e ha dimostrato negli anni che è una squadra che è in eccellenza e sicuramente una delle più forti quindi sappiamo benissimo che il valore dell'avversario è veramente importante. Mister Fociana riconfermerà probabilmente l'undici titolare della scossa giornata da stabilire solo chi giocherà come alla destra dopo l'uscita dal campo di Amaglia dopo mezz'ora di gara contro il Mister Bianco. Sicuramente scenderanno i ragazzi motivati e soprattutto farò la scelta per chi in settimana se l'è nato meglio. Difficile vedere dal primo minuto il neo arrivato Shavir Esuf ancora senza i 90 minuti nelle gambe. Ancora il ragazzo ha necessità di avere dei minuti il minutaggio è importante quindi vediamo un po' di monitorarlo partita dopo partita. E' tutto, il nostro telegiornale termina qui per gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it adesso vi lascio le previsioni medio. Grazie per averci seguito. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.